è un vero peccato buttar via questi sci da fondo ne tengo uno vediamo un po' ammazzare ragni? ma qui non ci sono ragni stupido ragno paura di schiattare? no, 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 no no, 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 no veleno per ragni e veleno per gli umani oh, oh, no vera dov'è il dottore? oh, no eccolo qui oh, è un ragno è ora di aprire la busta che ti ho dato toglietemi ho imparato la rianimazione mentre gli altri finivano i compiti in classe comprimi il torace subito cos'è successo dove sono perché avevo un ragno in bocca perché avevo un ragno in bocca non puoi immaginare cosa mi è successo ho cercato di fare quello che mi avevi detto e guarda come sono messo no 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 no